C'è competitività, sanno che adesso tutti hanno la possibilità di dare il loro contributo perché veramente metto in campo quelli che possono darmi per ogni tipo di partita hanno le caratteristiche che mi possono servire a me, stanno tutti sulla corda, tutti sul pezzo tutti stanno avendo soddisfazioni, è normale che ci sono 4-5 che inevitabilmente su una rosa di 25 sono un po' più penalizzati, però ci sono in questo momento 17 giocatori che stanno dando sicuramente tantissimo e questo in questo momento sicuramente è la forza di questa squadra come ho detto un po' di qualche settimana fa, l'infrasettimanale, la settimana in cui abbiamo giocato tre partite mi ha permesso di poter ruotare la rosa e naturalmente avere delle indicazioni importanti perché Castrovilla e Croce sicuramente ci hanno dato in quest'ultimo periodo quella freschezza non solo fisica ma anche mentale di chi è stato magari in tanto tempo un po' fuori dal rettangolo e quindi hanno tante energie fisiche e mentali e di conseguenza chi ha tirato un po' la carretta ha rifiatato e oggi anche sotto è entrato nel migliore condizioni possibili ha tenuto botte, ha strattonato, ha strappato molto, ha avviato tantissime ripartenze quindi è dimostrazione che in questo momento la squadra sta bene fisicamente ma soprattutto sta bene mentalmente guardo molto le caratteristiche dei giocatori che mi possono servire in determinate partite perché credo che se hai la possibilità di poter scegliere è giusto farlo e quindi è normale che nell'ultimo periodo hanno giocato un po' vero male 7-8 udicesimi sono stati quelli però l'importante è che chi viene chiamato in causa come ha fatto oggi Montalto poi si fa trovare presente grazie